titolo piuttosto scenografico il quale creerà qualche lamentela da parte di alcuni utenti dei social media ma fa niente perché la verità bisogna dirla e quest'ultima non piace affatto alle persone nel 2022 grazie al nostro libro la ragazza giusta non arriverà da sola e al nostro store digitale abbiamo assistito ad un raddoppio del numero di clienti presenti nella nostra anagrafica attualmente abbiamo superato gli 8.000 clienti effettivi che vi posso confermare sono veramente tanti altre persone del settore infobusiness arrivano quando va bene a qualche migliaio e sono già tanti ciò che è conseguito a questo aumento di clienti è stato l'aumento delle vendite ovviamente ma anche l'aumento delle richieste di rimborso e tu dirai ecco adesso li abbiamo scoperti aspetta un attimo lasciami finire di spiegare abbiamo avuto una marea di richieste di rimborso dopo che alcuni ragazzi si sono confrontati con mamma e papà circa il loro acquisto vi faccio alcune semplici considerazioni 1 un ragazzo di 20 25 35 anni dovrebbe essere capace di decidere da solo una volta le persone a 20 25 anni avevano casa famiglia e figli adesso dopo diverse decadi di sviluppo socio economico ci sono dei bambini non possiamo definirli uomini che non sono nemmeno in grado di decidere da soli io penso che nessuna donna potrebbe stare al fianco di questi bambini infatti sono da soli e tu cosa ne pensi 2 i nostri genitori si sono conosciuti negli anni 70 80 epoche molto diverse rispetto ad ora per quel che riguarda le relazioni sentimentali le conoscenze avvenivano solo dal vivo tinder non esisteva whatsapp neppure instagram nemmeno e la donna non godeva dello strapotere mediatico odierno che oggi la eleva a regina indiscussa delle possibilità di scelta quindi spiegatemi come fanno due persone che hanno vissuto in un altro mondo a dare dei consigli ad una persona che vive in un contesto sociale completamente rivoluzionato non ti sembra qualcosa di poco coerente il terzo punto riguarda la paura lavorando con queste persone da anni le conosco bene purtroppo ecco loro sono dominate dalla paura ovviamente si tratta di ragazzi che non muovono un muscolo da anni e anni con le ragazze rimandando ogni singola occasione di compiere l'azione vivono la possibile conoscenza di una donna con il terrore che dica di no e con la paura di non saper cosa dire la domanda è la seguente se voi non fate niente chi può cambiare questa situazione di frustrazione un limone al giorno è il nostro secondo libro uscito il 2 gennaio 2023 anzi a dire il vero non è un libro tradizionale bensì è un libro game ma c'è di più è l'unico libro game di seduzione al mondo lo trovi al sito unlimonealgiorno.it dove potrai prenotarlo e riceverlo poi in forma anonima a partire da febbraio 2023